Lunedì 6 luglio 2020, ben ritrovati, buon inizio settimana ai nostri telespettatori, nuova edizione del telegiornale. Apriamo con Rocca d'Aspide, uomo positivo al Covid-19, fa ritorno dall'America, aveva fatto ritorno dagli Stati Uniti per poi raggiungere la sua città natale, un uomo di 53 anni che organizza viaggi turistici per stranieri nel Cilento, in particolare cittadini americani e dunque risultato positivo al Covid-19. Disposto dall'Asle di Salerno, l'isolamento per lui e per i suoi familiari, la moglie e i due figli, sui quali è stato fatto il tampone naso faringeo per verificare se anche loro sono positivi al coronavirus. L'uomo è arrivato in aereo e da Roma ha raggiunto la stazione ferroviaria di Capaccio Pestum, in treno, poi la città di Rocca d'Aspide in auto. È stata fatta inoltre la ricostruzione dei contatti e avvisate sia la compagnia aerea che la rete delle ferrovie italiane per risalire alle persone presenti, sia appunto in aereo che nel vagone sul quale viaggiava. Cambiamo argomento, parliamo adesso di Vallo della Lucania, in fiamme il tetto del seminario diocesano. Purtroppo, come vedete dalle immagini, un incendio questa mattina si è sviluppato presso il seminario diocesano di Vallo della Lucania, del fumo è uscito fuori dal tetto dello stabile, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento vallese che sono immediatamente arrivati sul posto a coordinare i soccorsi, i militari della locale Compagnia dei Carabinieri, i vigili urbani, i sanitari del 118, il gruppo comunale della protezione civile. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'incendio presente, sul posto anche il vescovo Monsignor Ciro Miniero. Ci spostiamo adesso su Camerota, un altro incendio, attimi di paura. Ieri sera appunto nel comune costiero, in un'abitazione del capoluogo però, a causa di una bombola di gas propano, si è sviluppato un incendio che tempestivamente, grazie all'ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, si è evitato il peggio. Allertati dai presenti hanno domato le fiamme dopo aver sgomberato l'immobile. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per le verifiche, fortunatamente non si registrano danni a persone. E la foto che vedete inquadrata è quella dell'assessore regionale all'istruzione, Lucia Fortini. La data dell'inizio delle elezioni in Campania è confermata per il 24 settembre. La decisione è arrivata pochi giorni fa dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni dei genitori. Una decisione, dichiara appunto l'assessore, presa con rabbia ed amarezza, ma non c'era altra possibilità. Aprire il 14, come ha suggerito la Ministra Azzolina, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l'inizio delle elezioni è sempre scaglionato tra le diverse classi. E questo non è serio per i docenti, per gli studenti e per le famiglie. La riunione si è conclusa informando che la delibera regionale del calendario scolastico sarà pubblicata indicativamente martedì o giovedì di questa settimana. Per quanto riguarda i docenti, ieri c'è stato l'impegno da parte del direttore dell'USR, Luisa Francese, a concludere le operazioni di assegnazione provvisoria entro il 31 agosto, in modo da tutelare la comunità didattica. Rimaniamo ancora in tema scolastico. In provincia di Salerno le scuole riapriranno con modalità miste e a distanza il servizio dai nostri corrispondenti da Salerno. È molto probabile che in provincia di Salerno le scuole riapriranno con modalità miste in presenza e a distanza e con lavori in corso. È quanto emerso dall'incontro che si è svolto stamattina presso l'Istituto Amendola a Salerno per fare un punto della situazione relativa ad interventi, risorse e competenze per l'adeguamento degli edifici scolastici di competenza dell'amministrazione provinciale di Salerno ed ottemperare a quanto previsto dalle norme anti-Covid. Soprattutto sulle norme che riguardano il distanziamento tra gli alunni. Questo è il problema dei problemi. I dirigenti scolastici sono preoccupati perché gli spazi a disposizione di tutti i plessi scolastici, le aule, non sono commisurate alla superficie necessaria per ospitare tutti gli alunni. La proposta che facciamo noi come provincia di Salerno è questa. Impostazione fissa è facile, è meno complesso rispettare la misura del distanziamento perché essendo fermi seduti ai banchi, anche uno standard di superficie per alunno di due metri quadrati consente di rispettare il distanziamento. Quindi nel momento in cui l'alunno dovesse alzarsi per qualsiasi ragione e quindi andare in bagno, essere interrogato, chiudere una finestra, fare qualsiasi attività che imponga uno spostamento all'alunno, scatterebbe per l'alunno l'obbligo di indossare la mascherina. Quindi in questo modo più che raddoppiamo l'indice di affollamento delle aule tranquillizzeremo anche i dirigenti scolastici. Bene, ci fermiamo per qualche secondo. C'è la pubblicità e poi di nuovo con le notizie del Tg. Le Tisane di Zara Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara Info 333 90 26 266 Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro Polifunzionale Elysium Piscina semiolimpionica palestra centro fitness con attrezzi di ultima generazione pizzeria con ingredienti genuini e selezionati sala bar Centro Polifunzionale Elysium Via Lento Agropoli Salerno Info e Elysium4U.it Risarcimenti Italia dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto Risarcimenti Italia Via Mattine 5 Centro Le Torri Agropoli Salerno Villa Franca Ad Omignano Scalo per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali Villa Franca Via Cerreta 27 Omignano Salerno Il gruppo riflessi con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria vi invita a visitare la nuova sede in Via Mattine ad Agropoli Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie Profumeria fornitissima delle più grandi firme Gruppo riflessi Abbigliamento e profumeria Via Mattine, Agropoli Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti Non è una favola per bambini è MD MD Passione, tradizione e competenza Buona spesa Italia Ben ritrovati Riprendiamo il telegiornale con Agropoli Petizione per dire no alla chiusura di una sezione della materna e dunque abbiamo realizzato un servizio curato da Raffaella Giaccio Allestito in piazza Vittorio Veneto un banchetto per la raccolta firme estesa a tutti i cittadini di Agropoli che volessero sostenere l'iniziativa contro la decisione dell'ufficio scolastico provinciale di chiudere una sezione della scuola dell'infanzia Santa Maria delle Grazie del primo circolo didattico L'iniziativa è partita da una mamma, Chiara Izzo anche rappresentante del circolo didattico agropolese l'ufficio scolastico salernitano ha deciso di chiudere una sezione della scuola materna da qui la protesta della rappresentante di circolo per tutelare la salute dei bambini che mai come in questo momento necessitano di attenzione visto anche l'inizio del nuovo anno scolastico incerto dal punto di vista epidemiologico con la decisione dell'ufficio salernitano si avrebbe la soppressione di una sezione riducendo le classi da 6 a 5 L'iniziativa nasce da noi genitori e dal nostro stupore e la nostra rabbia quando abbiamo appreso di questa decisione dell'ufficio provinciale scolastico di chiuderci una sezione di fatto da 6 sezioni passiamo a 5 parliamo della scuola dell'infanzia Santa Maria delle Grazie qui in centro il primo circolo di Agropoli in base a un calo di numeri, di iscrizioni hanno approfittato a chiuderci questa sezione quindi di fatto verrà chiusa la sezione mista e 10 bimbi interromperanno la loro didattica, il loro progetto e verranno smistati, divisi e accorpati alle altre classi questo determinerà un aumento di numero di bambini per classe che in tempi di covid non è accettabile per noi genitori Avete interpellato il dirigente scolastico la dottoressa Margherita Baldi che cosa vi ha comunicato in merito a questa situazione? Certo, siamo stati informati in consiglio di circolo di questa decisione la dottoressa Baldi ha appoggiato la nostra iniziativa e proverà i suoi canali istituzionali per capire se si può tornare indietro su questa decisione contemporaneamente abbiamo anche coinvolto il sindaco Adamo Coppola e l'amministrazione comunale che ha appoggiato questa iniziativa, ci supporta e anche di lì abbiamo attivato il canale istituzionale che è contemporaneo alla nostra iniziativa di protesta Chiara, tu in prima persona ti sei esposta proprio per portare avanti questa battaglia ma spieghiamo ai cittadini di Agropoli che ancora non sono venuti qui in piazza Vittorio Veneto dove c'è il gazebo per la raccolta delle firme come possono fare, quando possono trovarti La raccolta in piazza terminerà domenica sera però noi continueremo perché non ci poniamo limiti cercheremo di raccogliere più firme possibili per fare rumore potete rivolgervi a tutti i rappresentanti delle classi del primo circolo di Agropoli alle insegnanti e a moltissime persone che ci stanno dando una mano nella raccolta firme perché i moduli continueranno a girare quindi ci appelliamo a tutti i cittadini di Agropoli perché la salute dei bimbi è un interesse di tutta la città e con l'occasione nel weekend mi appello soprattutto ai giovani voi siete il futuro di questa città sarete genitori e la scuola è un bene primario che dovete difendere, vi aspetto Rimaniamo su Agropoli Taglio del nastro sabato scorso per i sentieri dell'oasi naturalistica di Trentova-Tresino ad Agropoli vediamo il servizio Una giornata speciale abbiamo appena inaugurato l'oasi naturalistica Trentova-Tresino e ho appena percorso un sentiero bellissimo l'ultimo che abbiamo realizzato il sentiero Belvedere non è molto lungo facilmente percorribile circa 600 metri ma ci dà delle sensazioni bellissime oltre al contatto della natura abbiamo visto proprio dal punto del Belvedere più in alto un panorama bellissimo una cartolina che ci restituisce veramente delle emozioni importanti per questo oggi è una giornata speciale veramente invito tutti voi a fare una splendida passeggiata qui a Trentova e raggiungere per quelli più determinati tutti i 10 chilometri di sentieri che abbiamo messo a disposizione per voi Da sabato 4 luglio al 31 agosto sarà attivo il servizio Alicost S.p.a dunque per i collegamenti via mare con Aliscafi tutto pronto al porto di San Marco con la riorganizzazione dei servizi per la tutela della salute della sicurezza del personale di bordo e dei viaggiatori le linee marittime garantiranno collegamenti dal Cilento alla costa d'Amalfi all'isola di Capri e alle città di Napoli e Salerno fino al 31 agosto una bella notizia adesso per quanto riguarda i nostri centenari nel Cilento Daniele Romualdi è stato a Canna Longa per festeggiare le 100 canneline di nonna Francesca il servizio canna longa provincia di Salerno mi trovo qui in occasione del centesimo compleanno della signora Tomeo Francesca andiamo nel Corso Europa e più precisamente nel Vico Affritti a fare gli auguri a questa nonnina e ai suoi familiari signora Antoniella che significa per voi festeggiare i 100 anni di vostra mamma? bello è commovente ci puoi riassumere tu quanti siete in famiglia quindi dai figli ai nipoti e pronipoti? allora quattro figli di cui uno è morto nove nipoti e otto pronipoti e mi trovo insieme a Carlo Tangri impegnato nella Proloco pronipoti di zia Francesca allora Carlo che significa per voi pronipoti e per tutta la vostra famiglia questo pomeriggio nel festeggiare appunto nonna Francesca? in realtà è una fortuna perché ovviamente non molti raggiungono questa età quindi siamo già fortunati ad averla qui ancora con noi sperando che comunque possa restare almeno in saluto come sta ora è un'emozione si si confesso che il panno mio nemico a Dio mi rese già nemico a Dio mi rese già c'è stata la celebrazione della messa e tu hai suonato diciamo i vari canti e soprattutto un canto che tua nonna era a cui molto legato sì nonna da sempre ha partecipato sia alla confraternita di Santo Turibbio partecipato al diciamo al cammino quando diciamo l'intera comunità va a trovare la Madonna sul Monte Gelbison ed era affezionata infatti ha partecipato sempre tanto è vero che quando diciamo la processione passa sotto casa sua qui nel Rione si affaccia sempre anche diciamo ad oggi che è centenaria insomma buonasera buonasera tanti auguri bene ci fermiamo ancora una volta rimanete con noi ancora qualche minuto di pubblicità e poi di nuovo con le news di pubblicità Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via NITI 1, Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellavate. www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Letisane di Zara, prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisane di zara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, pavimenti e rivestimenti delle migliori marche. Vasta scelta di arredobagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia. Capaccio Scalo Salerno. Il studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci. Pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze. Internet, phone, tv, energie. Rieccoci per la parte finale delle notizie del Cilento e non solo. Agropoli lunedì 13 luglio, prevista la disinfestazione adulticida nella città di Agropoli. A partire dalle ore 24 avrà inizio sul tutto il territorio comunale il trattamento di disinfestazione adulticida. L'intervento sarà effettuato da personale specializzato con l'ausilio di automezzi e attrezzature idonee. I prodotti utilizzati, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, sono a base di piretroidi di sintesi in formulazione a basso impatto ambientale. La cittadinanza è invitata a collaborare, evitando l'esposizione all'aperto di alimenti ed indimenti, mettendo al riparo animali domestici e da compagnia, chiudendo le finestre e i balconi durante l'esecuzione dell'intervento, lavando accuratamente frutta e verdura, eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro urbano. E adesso invece vediamo un servizio per quanto riguarda i saldi nella regione Campania. Slitta di un mese l'inizio dei saldi estivi, dal primo agosto e non più a luglio, come invece accadeva da anni. Quest'anno infatti il primo sabato del mese di luglio non è contraddistinto dai saldi di fine stagione, perché l'emergenza virus e il lento ritorno alla normalità ha portato quasi tutte le regioni d'Italia a decidere che il periodo dei ribassi e la data d'inizio degli sconti di fine stagione fosse il primo agosto. Anziché quindi iniziare il 4 luglio, oggi data che era stata preventivata per quest'anno, i saldi estivi 2020 partiranno ad agosto e dureranno come sempre 60 giorni fino a settembre. La decisione è stata presa anche per andare incontro alle esigenze dei commercianti e delle attività produttive che dopo il lockdown si trovano ora a far fronte alla messa in atto e alla gestione di misure sanitarie e di distanziamento previste per questa fase di riaperture. Ma di fatto nella realtà delle cose i consumatori tutto sommato questa mattina non se ne sono resi conto perché in quasi tutti i negozi sono comunque attive tante promozioni con tagli dei prezzi fino anche al 50%. Tutto questo per incentivare gli acquisti che in parte durante il lockdown si sono spostati in maniera incisiva verso le compere online a discapito dei negozianti di quartiere. Oggi abbiamo l'onore di ospitare negli studi televisivi Giovanni D'Avenia. Chi è Giovanni D'Avenia? È il presidente onorario del centro studi Super Sud nonché ideatore della Borsa Mediterranea Formazione Lavoro. Ben trovato Giovanni. Buongiorno, grazie a voi. Allora oggi parleremo innanzitutto del centro studi Super Sud e poi facciamo il bilancio di questo tour nel Cilento tra Agropoli e Ascea dunque perché stai accompagnando delle aziende giovani nella promozione di alcuni prodotti. Ma ne parliamo subito dopo. Parliamo prima invece di questo centro studi Super Sud. Che cos'è? Di cosa si occupa? Innanzitutto il centro studi Super Sud dà la possibilità attraverso dell'informazione e l'orientamento creare occasioni, bande e occasioni di lavoro e dare informazioni. Uno dei principi fondamentali è basato sulla democrazia delle opportunità. Ogni giorno dei ragazzi caricano sul sito Super Sud delle schede relativi a bandi, informazioni e occasioni di lavoro. E abbiamo accompagnato una serie di realtà intorno a Super Sud, non ultima un'associazione di progettisti. Progettisti che si metteranno a disposizione del territorio. Ma l'idea forte che ha partorito Super Sud è stata la Borsa Mediterranea della Formazione Lavoro che quest'anno è stata la seconda edizione che a causa del Covid l'abbiamo dovuta tenere tutta online. E nonostante questa siamo stati premiati perché ci sono state più di 50 ore di diretta, 200.000 visualizzazioni. E che cosa è la Borsa? Nasce come un LinkedIn non virtuale, uno spazio dove gli attori istituzionali, in primis la Regione Campania, il mondo dell'università, della scuola, dialoghe e interagisce con attori del mondo privato. Quest'anno abbiamo avuto come ospiti 24 agenzie di lavoro ed enti di formazione. Questo mondo dialoga scambiandosi delle informazioni e matchando domande e offerte di lavoro. Tant'è che una delle grosse novità che abbiamo lanciato durante questa seconda edizione è stato il sito BMF Online. Cioè su questo sito vengono caricati tutti gli annunci delle agenzie di lavoro e degli enti di formazione. E a sua volta molti ragazzi possono caricare il loro curriculum. Caricando il loro curriculum vengono valutati dai rispettivi enti di formazione e agenzie e potranno essere chiamati sia per orientarli sia per il percorso formativo. Ma a sua volta anche le aziende, in maniera del tutto gratuita, possono caricare degli annunci e delle esigenze rispetto a un fabbisogno lavorativo o delle offerte formative. Questi annunci verranno guardati e visti da tutti gli enti e le agenzie di lavoro e possano dialogare tra di loro. In realtà abbiamo inventato un monster territoriale perché una delle più grandi sfide che stiamo lanciando attraverso la Borsa e uno dei principi di Superstudio è fare rete e sistema. Perché durante questi dibattiti e queste ore sono emerse tante eccellenze in tutti gli ambienti, nel mondo imprenditoriale, nel mondo istituzionale, far conoscere tutte le attività che le istituzioni stanno facendo, nel mondo della scuola, nel mondo dell'università e soprattutto anche le realtà formative. Quindi che vuol dire? Mettere in evidenza tutte queste eccellenze e farle diventare sistemi e farle dialogare. Questa è una delle sfide che si prefigge SuperSud. Ecco, diamo subito, comunichiamo l'indirizzo di SuperSud, il sito internet, in modo tale che i nostri telespettatori, tanti giovani, possono visitarlo. Basta andare sul sito www.supersud.it Da due o tre mesi è stato trasformato in un quotidiano online. Questo quotidiano sta avendo una rilevanza in tutte le regioni del sud perché noi riteniamo che l'informazione e l'orientamento sono elementi essenziali per una crescita di un territorio e proprio per questo noi dobbiamo far emergere potenzialità in espresso, cioè tante eccellenze che esistono, ma queste eccellenze vanno raccontate e vanno testimoniate. Allora, in occasione invece della Borsa Mediterranea della Formazione Lavoro hai premiato due aziende. La prima è CSP, non solo due aziende, tante altre, ma veniamo al tema attuale per cui tu oggi sei qui. Stai facendo un tour con CSP, che è un'azienda agropolese, ragazzi giovani laureati hanno creato una mascherina, Imotep, che è davvero eccezionale, è fatta in silicone, quindi utilissima per tante situazioni. Lavori l'hai premiata e quindi raccontaci con loro oggi, sei stato qui ad Agropoli, per donare queste mascherine Imotep alla Croce Rossa Agropoli e Cilento, giusto? Sì, perché noi attraverso i Cinto Studi Super Sud orbitano varie associazioni. Durante il periodo del Covid, noi attraverso una piattaforma di crowdfunding, Eppla, abbiamo chiesto ai nostri amici e ai vari associati di dare un contributo, una raccolta fondi per acquistire delle mascherine e poterle donare. Quindi grazie a quel ricavato, a quel contributo, oggi siamo venuti qui ad Agropoli. Abbiamo acquistato da questi ragazzi di Agropoli, da questa azienda fatta da ragazzi giovanissimi, per di più 22-23 anni, CSP, una realtà che sta avendo successo a livello nazionale e noi diciamo che spesso una delle grosse deficit del Sud è far emergere e raccontare le eccellenze nei nostri territori. Che cosa abbiamo fatto? Con questi contributi abbiamo acquistato queste mascherine e le abbiamo donate stamattina alla Croce Rossa del Comitato di Agropoli, nella persona del Presidente Giovanna Infante, che hanno ringraziato e sono rimasti entusiasti di questa esperienza, innanzitutto per la validità tecnica di questa mascherina e perché sta avendo un grosso successo. E soprattutto abbiamo messo a sistema due realtà, come dei giovani imprenditori, attraverso dei corpi intermetri, che è la Croce Rossa, che ha una grossa tradizione storica e soprattutto in questo periodo del Covid abbiamo saputo apprezzare sempre di più il mondo della sanità e tutto ciò che gravita intorno alla sanità, abbiamo apprezzato, abbiamo messo a sistema, abbiamo unito queste cose e abbiamo raccontato una bella testimonianza, una bella storia. La seconda storia, racconteremo, è questa di la ditta Raffaele Fariello di Ascia. Che cosa è successo? Durante il periodo del Covid, siccome lui aveva una fabbrica di materassi, ha una fabbrica di materassi, stava producendo delle mascherine del tutto gratuite. Ci siamo conosciuti, ci siamo sentiti telefonicamente perché in quel periodo non potevamo frequentarci e avevamo chiesto se poteva darci delle mascherine in donazione raccontando la sua esperienza e noi raccontavamo le esperienze di Super Sud. Che cosa abbiamo detto? Perché ci sono dei bandi di incentivi, perché non partecipano, abbiamo anche aiutato, spronato, andare avanti. Grazie a quell'incentivo, oggi lui è partecipato a un vando di Vitalia ed è acquistato, ha avuto un evidenziamento per acquistare di un macchinario, è stato certificato e ora va in produzione. Quindi anche di Ascea avremo una fabbrica che produrrà mascherine a livello nazionale. Quindi sono due storie belle da raccontare e come anche il Cilento può dire in questo momento di sconvolto, come queste storie vanno raccontate e vanno rappresentate ed esaltate, a mio avviso. Perfetto. Prima di salutare i nostri telespettatori per questo bel incontro fatto con te, vogliamo dare un'indicazione magari ai giovani per il Centro Studi Super Sud? Sicuramente devi andare a visitare la piattaforma BMF Online, la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, perché lì già ci stanno 100 annunci di lavoro, fatti da agenzie di lavoro e degli annunci. Qualcuno può conoscere le offerte formative, perché una cosa ci dobbiamo dire con l'estrema verità, da qui a qualche periodo il Covid farà cancellare tanti posti di lavoro, con l'innovazione tecnologica, perché un dato che è emerso dalla Borsa diventa un elemento importante, ma soprattutto diventa importante anche la gestione del risorso umano, quindi innovazione tecnologica e risorso umano. E noi possiamo creare lavoro puntando su due elementi essenziali, la formazione e la ricerca. Perché abbiamo detto la ricerca? Perché non c'è sviluppo senza innovazione e non c'è innovazione senza la ricerca. E poi la formazione a tutti i livelli, sia per chi già lavora per mantenere il posto di lavoro e sia per acquisire nuove conoscenze e nuove competenze, perché il mercato sarà così veloce da qua ai prossimi anni e quindi dobbiamo attrezzarci a questa sfida post-Covid e competere a livello globale. Questa cosa, il messaggio che vogliamo lanciare, è che questa cosa si fa facendo rete, facendo sistema, tutti insieme, perché da solo nessuno può vincere questa sfida. Bene, grazie Giovanni Davenia, dunque Presidente Onorario di Centro Studi Super Sud, ringrazio anche i colleghi di Salerno Notizie, Stefano Cammarano della CSP, insomma i ragazzi di Imhotep, e Alfonso, il mio amico di Salerno. Grazie a tutti e arrivederci a presto con una nuova intervista, sempre su Cilento Channel. Grazie a tutti.